mamma non è tu e vuoi diviolata? ma... dove c'è mamma? un po' disperazione che disperazione che disperazione? ma per come oggi è vicino a me? guarda qui guarda qui mi dici qualcosa? dove siamo? cosa facciamo? stai facendo un video? allora siamo nella nostra presidenza estiva a Calvè in realtà si chiama Residenza Rinella ma ormai mi sento così a casa per come se fosse la nostra presidenza estiva stiamo facendo stiamo per iniziare la calcolazione è un po' tardi perché le video si sono svegliate tardi io sto tagliando le brioche ciao queste sono quelle vecchie buon appetito ma buongiorno buongiorno ciao buongiorno amore buongiorno buongiorno grazie 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 non mi capito non mi capito non mi capito stai grazie ciao Ciao! È l'unora ora. Non ti ho iniziato a scoprirla io. Poi ho capito che non mi deve più scoprire. Mi vuole mamma. Come mai tu scoprivi tua sorella? Dormivo. Non ho stavido con me lo stella. Sì. Stella non è vera. Ti segui fatti e vieni suggerendo e basta. Ma dormivo quando... alla notte profonda. Stella, tu a volte ti svegliavi, venivi da me e mi facevi così alla coperta. Quello non è dormire. Non è vero. Non è vero, Lante. Non è vero. Lante, quindi tu stai ipotizzando che tua sorella di notte venisse apposta per farti un dispetto a toglierti la coperta? Non dico apposta. Però io sentivo sta qua che mi tirava però non venivo lì a togliertela. Quindi non... Io stavo domando. Sì, certo. non è vero che questo è il gioco, ma ci svegliere. Basta solo dire scusa Ciao Si usa con l'armica Che cosa? E' di crisio Mi fai una foto? Eucalipto però non è questo Globulus Perché non è questo Globulus? Hai i tuoi oli essenziali Berta Io no no Profumano Che figata questa cosa che abbiamo trovato Dietro le orecchie I bronchi Per la sinusite, l'otite, la tracheite e la bronchite Lì E' una panacea per ogni male Sulle penne infettate da funghi O batteri Io no no Allora E' i tuoi Di la gente Ma È guarda senza farlo apposta quelli i tre che non ho comprato non me ne frega niente senza saperne niente e adesso l'ultimo come va brava che fai sempre bene ciao ciao non do baciare l'obiettico e sciocchino ma fai in modo a quello a capire dice per i dolori delle infiamazioni dell'apparato locomotore sono le gambe sono le gambe violante mi saluti violante violante che cosa stai mangiando violante con i puntini di cioccolato e tu stella che cosa hai mangiato di buono e prima siamo andati a prendere le brioche brava grande grande che una volta io ho baciato l'obiettivo davvero te lo giuro era bellissimo che cosa stai mangiato di buono che stai mangiato di buono che stai mangiato di buono mi dici qualcosa stella dove siamo mi dici qualcosa stella dove siamo e che cosa succede qui in corsica e che cosa succede qui in corsica dove ti seguo fammi vedere qui in corsica ti seguo fammi vedere qui vai buongiorno violante una foto please come si chiama come chiama questo è metto di panno cioccolato cioccolato che brava stai vuoi anche un pezzo di qualcos'altro solo quello te ne posso dar due ciao vi faccio vedere signore e signori la betta abbronzata violante appena sveglia mi fa piacere questa cosa buongiorno buongiorno il braccio lungo di segno te la sorridi fatta posso farla io te no allora se ti gioco lo vuoi dire non puoi stella lo sai che forse per il mio compleanno il papa mi regala una macchina fotografica vero una polaroid forse 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 papi per il mio compleanno forse mi compri non una polaroid ma una macchina fotografica non 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 anche 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 no ma facciamo una foto col piede in faccia si non 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 che bella che sei dai guardiamo un po' guarda che vista bello bello eh bello stella di ciao ciao ora di ciao video ciao mondo ciao video ciao mondo guarda come sono brava ecco sono bravissima vedi oddio cosa è su questo? e dove vuoi? io ti sto facendo un video ok oddio va bene ciao ciao mondo Ciao mondo Ciao mondo Io sono il genio dei geni Cosa c'è? Ho fatto qualche squadra a piedi Cos'è un pesciolino? Ehi, lo stai guardando? Eh, vediamo se c'è un pesciolino Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è un pesciolino? 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 stella, ma c'è un pesciolino? Cosa c'è un pesciolino? Cosa c'è un pesciolino? o cambi colore non la metti violante ma che sciocchine come va? bene mi racconti qualcosa violante dove siamo? cosa facciamo? siamo in un posto che facciamo qualcosa dai dimmi di più come stella? la rinella che stiamo mangiando cosa buona e facciamo colazione? si 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 stella? si stella tu che cosa hai mangiato? mi ha mangiato il latte di troppo e ho mangiato pane e succo pane e succo brava violante tu invece cosa hai mangiato? biscotti panno e cioccolato mi guardi tu Pina mi fai vedere con gli occhi biscotti panno e cioccolato latte e cioccolato e te brava oddio chi c'è qua? ho sentito un rumore chi è arrivato qua? vediamo un po' ah c'è una mamma che si nasconde piccino piccino fa modo ciao Elisabetta come va? buongiorno buongiorno che tu stai bevendo? succo di carota terribile che schifezza che schifezza dice stella sono d'accordo stella la soggiate ma io non ho assaggiato vero? sai? si la soggiate come? c'è una pespa calza perché andiamo via ma siamo oggi oggi c'è una vespa va bene vi saluto e ciao ciao violante ciao ciao come va ciao stella bella ciao violantina ciao betta qui tocca bene come va cosa fate e stella che cosa avevi in mano che mi hai fatto vedere bello l'hai trovato tu no è quello che ho trovato mamma come gli indiani proprio come si chiama il posto in cui siamo siamo in una spiaggia che si chiama la spiaggia come l'ho detto io prima andiamoci è bella questa spiaggia si c'è tantissima gente guarda la ma ci sono due tipi e basta guardiamo dall'altra parte c'è una tenda lì una tenda la poi basta no hai ragione c'è qualche ombrellone mi salutate? ciao 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 Sì, è vero, non è vero. Grazie. 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 Ci trovavo per cadere in acqua. E poi ci bagnavamo e ci buttano in acqua. Per favore. Per favore, per favore. Per favore, per favore. Aspetta, possiamo? Papà! Ma non possiamo? Ma non? Non è? Non è? non è violante cosa fai chi sono le tue amiche togli il ginocchio e in questo momento a chi stai scrivendo cosa dice mi guardi violante apri quegli occhi grandi ehi ciao come va ciao ciao bimba come state bene 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 ciao 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 no, per le mie amiche la faccio solo io non 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 ma ma quella lì è quella che era bella per lei oggi lante puoi tirarla sulla testa come prima stella stella sono Ong vieni qui stella stella sono Antonio e lascia una crescita dai stellina stellina stella stella posso vedere lì? eh? no eh? non ho capito stella no si no ah no posso provare a fare una foto con quella? me l'hai fatto con quella per favore me l'hai fatto con quella per favore no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.